ah buondì oggi ho una notiziona si sposa mia cugina e farò da testimone e adesso ci dovremo vestire ah no giusto avevo preso le scarpe nuove ma qualcosa di me ci doveva restare e ora purtroppo sembra un assassino ci sono wow ma sei una principessa vestito così mi si vedono meglio i calli ah no ma che macchina prendiamo prego questo spara da roba dobbiamo fare una piccola tappa ma dobbiamo levare allo stress e niente abbiamo beccato su perché abbiamo lasciato la macchina davanti allo stop eccoci ma ti ciclo un tacco si sembra il padrino il nonno bello eccolo cioè ma quanto è bello il nonno nonno con la lì ti ho rubato una cornice ci devi fare un po' femminile aspetta un attimo esattamente con ragazzo disperso confuso in ritardo sono io il testimone a parte della messa ve la salterò perché questa è la nostra storia la mia storia di questo matrimonio guaccio e li passiamo il dopo a me serve la clip se cade si ribalta la mamma Anna la Francia non è caduta ricadete putta su di me perché putta su di me Anna 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 dimmi ora la parte più bella della festa andiamo a bere hai visto quanta salita che c'è da l'aria? pausa mamma mia Anna smollami un colo sciocchetto mi aveva fatto il vento di me mi aveva messo la sprizzo mi aveva già avuto il gnocco per te Anna guarda cosa ho visto spritz avevo uno spritz per cortesia è uno youtuber è lui vai a cagare grazie buonissima che bella ci sono io Anna tonka aspetta che devo leggere cosa c'è non ho voglia di leggere Anna ma anche cazzo una spara di filatello croccante ne manco mi ha rotto la videocamera ma tanto ne ho altre tre però non è un problema comunque Anna Anna siccome ha bagnato tutto giraresti un po' per la stanza così asciughi è un po' per la stanza così asciughi No fermi fermi tutti no stop fermi 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 tutti Questa parte qua non ve la faccio vedere è mia cugina ma che pubblico di maniaci che ho No 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 Un saluto Buona serata Ciao ragazzi buonanotte Seguitemi per il prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale Ciao Stro Stro No 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 Boah No 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 Grazie a tutti